Sono entrato sull'1-0, quindi era normale, bisognava entrare e dare un grandissimo contributo alla squadra per cercare di chiudere la partita, quindi ho provato a fare l'assist, a trasformare in assist, ma non ci sono riuscito per bravura del portiere oppure per altre cose, però poi dopo quando, dai, per fortuna l'ho cercato, ho cercato il gol e alla fine è arrivato e sono contentissimo. Se la competenza è natata per arrivare da Cristiani, cosa succede? No, Ale è un grandissimo giocatore, un grandissimo centrocampista e devo dire che oggi ha fatto una partita eccezionale, al di là dei gol, ma a livello di posizionamento sa sempre dove stare, è un giocatore veramente molto intelligente e utilissimo per noi. Come affrontare le partite? Sicuramente da martedì, lavorare, ascoltare il mister, che ci dà un sacco di indicazioni, ci fa arrivare la domenica pronti e motivati, senza mai sottovalutare qualsiasi partita che si giochi con la prima, con l'ultima, che comunque adesso siamo ancora all'inizio, quindi è difficile da capire questo e il nostro stadio per tutto il campionato dovrà essere una cosa in più, una marcia in più che ci spingerà per poter vincere le partite.